Un software top di gamma a servizio delle gastroenterologie degli ospedali di Belluno e Feltre, un altro per le radiologie degli ospedali di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore, capace di intercettare anzitempo l'insorgenza di un ictus per garantire al paziente un intervento sanitario adeguato alle necessità. L'Ulse Dolomiti investe e innova le proprie dotazioni per la diagnostica per migliorare le opportunità di cura dei pazienti. L'intelligenza artificiale è l'ultima novità, è una delle ultime novità, sono dei software che aiutano molto i clinici, migliorano tantissimo la capacità diagnostica. Nel dettaglio il software acquisito per le gastroenterologie di Belluno e Feltre può aumentare significativamente la capacità di diagnosi non rilevabile dall'occhio umano, anche se è esperto, e di elaborare rapidamente le immagini. Con queste tecnologie abbiamo dato un aiuto in più ai nostri gastroenterologi che hanno una competenza clinica già molto consolidata dove non occorre che noi diciamo molto di più, ma gli abbiamo dato una marcia in più. L'intelligenza artificiale garantita dal software acquisito dall'Ulse 1 è la seconda in Veneto dopo quella operativa all'ospedale di Padova, ma ci sono importanti novità anche in campo radiologico nella diagnosi di ictus. È un software che in qualche modo rielabora velocissimamente tutte le immagini TAC e consente di distinguere se c'è un ictus ischemico o emorragico, permettendo quindi di ridurre i tempi diagnostici. Questo sistema aiuta a distinguere questi due ictus e quindi indirizzare nei posti giusti nel tempo più rapido possibile. Un'altra applicazione di intelligenza artificiale che sarà operativa nelle TAC degli ospedali di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. Un investimento importante, un'attenzione tangibile verso il territorio e i suoi cittadini con un'unica finalità. Cercare laddove possibile di dare il servizio migliore nel posto più vicino possibile, dopodiché non sempre può essere sotto casa.